Questo programma è offerto da Intesa San Paolo. Buonasera e ben ritrovati a Fruleconomy. Nella puntata di stasera dal titolo molto interessante Più di ieri ma meno di domani e padroni a casa nostra cercheremo di spiegare con l'ausilio degli ospiti un tema che c'è molto a cuore cioè la partita che sta giocando la regione Frule-Venezia-Giulia con lo Stato italiano per riuscire a limitare, ridurre il più possibile le ricadute sul bilancio della nostra regione in modo tale che non modifichino più di tanto la vita di imprese e di famiglie. Questo detto in parole molto povere, poi adesso cercheremo con l'ausilio degli ospiti che vado subito a presentare di spiegarlo meglio partendo anche con il calcio d'inizio dato da Alfonso Di Leva. Allora presenterei Barbara Zilli che è assessore regionale finanze e patrimonio. Ben ritrovata. Grazie, buonasera a tutti. Alfonso Di Leva prima citato, ben ritrovato Alfonso e grazie per la collaborazione preziosissima e poi abbiamo anche nella veste di componente della Commissione Parità Etica Stato-Regione Salvatore Spitaleri. Buonasera a tutti, buonasera ai nostri ascoltatori. Prego Alfonso. Di che cosa stiamo parlando? Allora partiamo da un dato certo che è quello contenuto nella legge finanziaria nazionale per il 2019. Che cosa c'è scritto? C'è scritto che la Regione Friuli-Venezia-Giulia deve contribuire nei prossimi tre anni al risanamento della finanza pubblica versando allo Stato 2,4 miliardi di euro. È una cifra enorme, soprattutto se confrontata a quello che è il bilancio della Regione, che mediamente è intorno ai 5 miliardi all'anno. Si tratta di 836 milioni di euro che la Regione Friuli-Venezia-Giulia dovrebbe versare allo Stato. Significa quasi il 17% del bilancio regionale. Se rimanessero le cose in questi termini, le ripercussioni per le imprese e i cittadini del Friuli-Venezia-Giulia sarebbero veramente molto pesanti. La domanda è cosa si può fare per ridurre questo esborso della Regione verso lo Stato? Assessore Barbara Zilli. Sì, grazie. Questa è la domanda delle domande ed è la domanda che ha mosso la Giunta regionale, in particolare il Presidente e me in qualità di delegata alle finanze, in questi mesi in un rapporto molto stretto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e anche con il Consiglio dei Ministri proprio. Va detto questo per i telespettatori, perché questo è un tema molto ostico, che però ha dei riflessi importantissimi, come ben diceva prima Massimo, sull'economia della nostra Regione. Va detto che nel quadro delle autonomie speciali del nostro Stato, la nostra Regione è quella meno speciale, cioè è quella che storicamente ha ottenuto meno competenze ed ha ovviamente un contributo al saldo di finanza pubblica, cioè risorse che i cittadini della nostra Regione versano allo Stato, superiore alle altre. Una Regione che ha i conti da sempre, storicamente, in ordine ed una Regione che ha scelto dal 1997 di gestirsi in proprio un servizio fondamentale come la sanità. Volevo tradurre in termini proprio quasi banali quello che lei ha detto. Ogni cittadino del Friuli Venezia Giulia contribuisce al risanamento della finanza pubblica più dei cittadini delle altre Regioni. È corretto? È correttissimo, in una proiezione che abbiamo fatto con una valutazione di quelli che sono gli accordi che le altre Regioni speciali hanno concluso e valutando per quanto riguarda la Sardegna che al pari del Friuli Venezia Giulia non ha ancora chiuso un accordo finanziario, effettivamente la nostra Regione versa il 14, verserebbe, se questi numeri fossero confermati, una percentuale pari al 14,70%. Rispetto alle altre che versano dal 9 al 7, penso a Trento e Bolzano, al 9%, all'11%, con situazioni che sono ovviamente eterogene, con situazioni che vedono la Regione Sicilia, per esempio, che è storicamente nota per le difficoltà di bilancio e le necessità da parte dello Stato di andare a risanare i conti della Regione Sicilia, e con situazioni che non vedono quell'autonomia che noi stiamo cercando di esercitare con grandi costi, penso appunto agli enti locali, penso alla sanità, penso al trasporto pubblico locale, che sono competenze che noi gestiamo, esercitiamo, e per giunta dobbiamo anche contribuire, per esempio sul Fondo Sanitario Nazionale, alle esigenze dello Stato. E questo è il punto, cioè quanto si riesce a risparmiare su questa cifra, a quanto può ammontare lo sconto che lo Stato può fare alla Regione Friuli Venezia Giulia. Allora, per il 2019 lo sconto è stato di 120 milioni di euro, per cui il 2019 è una partita chiusa, invece per il 2020 e il 2021 è assolutamente indispensabile arrivare ad un nuovo accordo fra lo Stato e la Regione affinché questo sconto sia quantificato. Io farei prima una domanda a Spitaleri sullo stato di salute dei rapporti fra lo Stato e la Regione e poi alla Zilli questi 120 milioni di euro di sconto cresceranno o diminuiranno? Spitaleri. Ma ci sono due elementi, un primo elemento che è un elemento tecnico, quando noi parliamo dei rapporti tra Stato e Regione, non parliamo solo di una valutazione di carattere e di rapporto politico, ma di quello che è, come dire, anche tutta la relazione che si sviluppa nell'ambito del rapporto con i ministeri, dove la Commissione Paritetica, anche negli scorsi anni, ha molto affaticato per trovare ingresso. C'è un dato importante rispetto al termometro delle relazioni che la Corte Costituzionale ha recentemente regolato in una sentenza proprio relativa alla Sardegna, introducendo o reintroducendo dei temi che per la nostra Regione sono pane quotidiano, ma che nei rapporti con lo Stato avevano creato negli anni qualche difficoltà, il tema della leale cooperazione e il tema della salvaguardia dell'equilibrio di bilancio all'interno delle singole Regioni per le funzioni che questa svolge. Questo consente di portare il tema del rapporto dare e avere tra Stato e Regioni in un quadro che non è solo di chi ti chiede, cioè lo Stato che ti chiede di contribuire, ma la Regione che può dire attenzione, guarda i miei conti, come ricordava l'assessore Zilli, guarda le mie funzioni, guarda quello che spendo, io compartecipo certamente agli equilibri complessivi della finanza pubblica, ma tenendo conto delle funzioni che svolgo e dei costi per i cittadini che già mi accollo come sistema Regione, o meglio che i miei cittadini si accollano come sistema Regione. Ci aiuterà questa sentenza della Corte Costituzionale ad avere uno sconto maggiore da parte dello Stato? Allora, io posso dire questo, ci sta aiutando molto nel rapporto già positivo con il Governo, perché al di là dell'approccio politico, come bene ricordava Spitaleri, c'è un grande apparato burocratico che è sempre molto ostile a cambi a cambi di prospettiva. E la sentenza numero 6 del 2019 che riguarda proprio un ricorso della Regione Sardegna stabilisce, una volta per tutte, dei criteri fondamentali. La leale collaborazione tra Stato e Regione è appunto la necessità che la lunga mano dello Stato intervenga in modo mediato, cioè valutando quella che è l'autonomia finanziaria e anche in termini di competenza delle Regioni. Quindi le Regioni speciali si siedono attorno al tavolo con il Governo con una tranquillità limitatamente superiore, perché sanno che nel caso in cui non ci sia una valutazione effettivamente reale di quello che sono le potenzialità, le esigenze della Regione e di quello che è proprio il come viene esercitata l'attività, chiedo scusa, come vengono esercitate le competenze da parte delle Regioni, bene, le Regioni possono vantare la possibilità di un ricorso alla Corte. E la Corte ha fatto una pronuncia che secondo noi è ovviamente vantaggiosa per Regioni come la nostra ed è una pronuncia che oggi mette in difficoltà il MEF, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nel momento in cui ha un dialogo con noi. Poi c'è un altro aspetto però, e qui rispondo alla sua domanda, l'aspetto è che il Ministero come tutti i governi è sempre alla ricerca di risorse, è sempre molto bisognoso di risorse, soprattutto in parte corrente di moneta sonante, per cui cerca di infischiarsene di queste valutazioni e in un modo o nell'altro può costringere le Regioni in una posizione di difficoltà perché comunque intanto ti prelevo le risorse, poi fai ricorso e vedremo. E intanto c'è il rischio per quanto riguarda per esempio la nostra Regione, qualora questa ipotesi dovesse verificarsi, di non chiudere il bilancio per l'anno prossimo. Perché? Che cosa accade? Noi abbiamo, la precedente giunta regionale, in particolare la Presidente Serracchiani, rinegoziò il patto, Padoan-Serracchiani, per l'ulteriore biennio, per cui fino a quest'anno, ottenendo uno sconto di 120 milioni. Questo sconto viene a scadere l'anno prossimo. Voglio dare solo le cifre perché così i nostri ascoltatori si rendono conto. La Regione Friuli-Venezia-Giulia avrebbe dovuto versare nel 2019 836 milioni di euro allo Stato grazie a questo accordo Padoan-Serracchiani Friuli-Venezia-Giulia fu concesso, fu ottenuto dalla Regione uno sconto di 120 milioni per cui la Regione Friuli-Venezia-Giulia nel 2019 deve versare 716 milioni di euro. Questo è il quadro dei numeri che è comunque ben oltre il 10% del bilancio regionale. Certo, ed è comunque una percentuale, come le dicevo, che ci porta ad essere la Regione che versa di più risposta. Allora, dobbiamo ragionare in termini politici su quello che è l'effetto positivo o negativo che dipende dall'esercitare funzioni e competenze improprio da parte delle Regioni. In un momento storico come quello che viviamo dove diverse Regioni a statuto ordinario chiedono di approdare a questo regionalismo differenziato per cui c'è molta sensibilità da parte del Governo a consentirlo. Pensiamo appunto alla Lombardia, al Veneto, all'Emilia Romagna. Molta sensibilità in termini politici di una parte del Governo. Sì, la parte in quota Lega è molto favorevole a questo. Diciamo che i 5 Stelle non vedono proprio in maniera... I 5 Stelle stanno facendo delle opposizioni a questo e hanno anche un po' la complicità dei ministeri visto le difficoltà di far cassa che lo Stato Centrale continuamente rivendica. Ecco, ci dobbiamo fermare per una breve interazione pubblicitaria e poi torniamo di nuovo qui a Friuli Economy. Assessore Zilli, per chiudere una parte dei discorsi iniziati nel primo blocco le domanderei sulla scorta di quello che avviene per le province autonome di Trento e Bolzano. La Regione Friuli-Venezia-Giulia riuscirà mai ad avere la totale competenza sui tributi locali? Perché adesso a carico suo ha solamente la spesa che è un compito anche gravoso ma invece avere la totale competenza sui tributi darebbe una marcia in più. Questo ad esempio si può provare a ottenere nell'intesa Stato-Regione che il Presidente Federica dovrà trattare con Giorgetti? Questo è ciò di cui ci stiamo occupando tra le altre cose perché crediamo che sia fondamentale che in capo alla Regione e attraverso la Regione e i Comuni ci sia una potestà impositiva piena rispetto ai tributi locali. Questo significherebbe essere padroni a casa nostra citando un po' il titolo. Sì, perché è evidente che i nostri Comuni hanno la capacità di conoscere quelle che sono le potenzialità di carattere di prelievo fiscale all'interno delle loro comunità ed è giusto che possano non soltanto moderare le aliquote ma anche decidere quali tasse introdurre per quali finalità e quindi poter essere attivi in questo senso. Ci stiamo lavorando in modo molto serio sarebbe già una conquista in questa fase comunque poter ottenere il riconoscimento quantomeno dei tributi immobiliari perché pensate che nonostante ci sia l'autonomia di spesa quali sono i tributi immobiliari pensi alla tasse sui capannoni ecco in questo senso il gettito va a Roma noi vorremmo poterlo trattenere in regione in modo tale che ci sia una boccata d'ossigeno per i nostri enti locali ed è una sfida in ordine alla quale cerchiamo di fare il primo passaggio con lo Stato per ottenerlo per poi giungere a quella che è una chimera che è il sistema di Trento e Bozzano ecco ma chiederei proprio a Spitalena in questo senso secondo lei ci sono oggettivamente degli spazi per accrescere le entrate regionali tenendo anche conto del principio di invarianza che dà sicuramente un po' di fastidio no ma sicuramente anche perché noi dobbiamo affrontare il tema dei rapporti tra Stato e Regione non solo sulla base del patto o del tema della leva fiscale ma anche su quelli che possono essere elementi di intervento diretto attraverso stanziamento di finanziamenti per progetti per interventi ad hoc nel nostro territorio regionale come è stato fatto per la terza corsia faccio tre esempi appunto la terza corsia dove con 160 milioni di euro comunque c'è stato un intervento statale non so la bonifica dell'area di Torviscosa 35 milioni di euro il tema dell'intervento sull'edilizia scolastica per circa 100 milioni quando noi parliamo di rapporti stato-regione dobbiamo come dire aprire l'intero libro vedere quello che noi diamo allo stato quello è aumentare la nostra capacità di richieste di interlocuzione con lo stato centrale rispetto a trasferimenti per progettualità per funzioni che la regione è in grado di gestire può gestire appunto terza corsia appunto tema delle bonifiche ambientali appunto qualità dei servizi scolastici questo è l'obiettivo dell'essere padroni a casa nostra ma secondo lei è raggiungibile? sì è raggiungibile nel momento in cui come regione ci attrezziamo non solo ad avere i conti in ordine ma avere una capacità amministrativa tale che questi fondi trovano immediata capacità di spese e di investimento ecco su questo approccio apriamo tutto intero il libro l'assessore Zilli che cosa pensa? dico che nel rapporto con lo stato ci sono molte difficoltà e che già dimostrare che una regione come la nostra è un'autonomia a gode di un'autonomia virtuosa è una una sfida e lo dico perché rispetto soprattutto ai burocrati e ai funzionari le regioni speciali sono viste continuamente come diciamo così delle realtà regionali privilegiate antistoriche e quindi privilegiate in ordine alle quali c'è sempre una grande diffidenza soprattutto quando si fa il confronto con le regioni ordinarie ma c'è rischio di perdere l'autonomia Zilli secondo lei? questo no io guardi sono assolutamente convinta del contrario in considerazione del fatto che il consiglio dei ministri in particolare la parte politica che mi rappresenta si è espressa in modo molto chiaro per quanto tiene l'autonomia anche da riconoscere regioni ordinarie che dimostrano di essere virtuose la specialità della nostra regione va comunque resa moderna rispetto a quelle che sono state le ragioni che le hanno fatta nascere e sorgere e in questo senso non va dimenticato che una ragione principale che non era soltanto la presenza delle minoranze linguistiche ma anche la zona di confine come la nostra va oggi rivista in chiave moderna in termini economici fiscali di competitività anche se poi la cronaca di giornata ci dice che invece stiamo perdendo proprio gli elementi sui quali poter fondare una moderna autonomia e specialità perché per esempio in Parlamento al Senato oggi è stata bocciata la proposta di tutela della rappresentanza slovena guardi io su questo tema devo esprimere delle perplessità nel senso che credo fermamente nella democrazia e non credo nella possibilità di riserve il seggio garantito agli sloveni personalmente mi trova assolutamente in disaccordo quindi secondo me non è un errore però questa è una posizione personale credo che la democrazia si dimostri in altro modo quali potrebbero essere le ragioni moderne della specialità della nostra regione beh valutando comunque ma senza dare delle garanzie di questo tipo alle minoranze linguistiche il fatto che qui ci sono delle minoranze linguistiche che convivono da sempre dobbiamo garantire alla scuola la possibilità di fare dei programmi e di esercitare l'autonomia scolastica fino in fondo dobbiamo garantire alle istituzioni la possibilità davvero di esercitare quel plurilinguismo che sembra quasi nostalgico per certi versi secondo certe visioni ma è che non deve essere limitato ai cartelli stradali ma deve essere proprio parte della nostra cultura come fanno in Trentino Alto Adige e quindi penso anche ai concorsi su base regionale e penso a tutte queste situazioni questo significa portare avanti nel futuro una tradizione che non è in conflitto con la modernità che è una nostra ragione di specialità e poi da qui c'è tutto un tema che riguarda proprio la posizione baricentrica rispetto all'Europa della nostra regione e le scelte di competitività anche in termini di semplificazione fiscale che noi dobbiamo adottare per rimanere al passo con sistemi come l'Austria e la Slovenia dove addirittura vediamo che esistono tasse uniche ecco sulla Slovenia poi avrò una domanda io da fare Razzili Spitaleri lei è d'accordo con quello che ha detto Razzili sulla modernità dell'autonomia su questi punti ne vede degli altri ce n'è uno in particolare che è molto interessante ricordava l'assessore tutto il percorso del regionalismo differenziato cioè della richiesta di Emilia Romagna Lombardia e Veneto di aumentare le proprie capacità e competenze e negli accordi sottoscritti tra i presidenti di queste regioni e il governo Gentiloni all'inizio del 2018 vi è una una di quelle postille perché alle volte è come dire il il tecnicismo non solo ma parte del contenuto è scritto in piccolo in fondo che riguarda per quelle regioni e diventa fondamentale per noi richiederlo e portarlo avanti il tema delle relazioni internazionali e della capacità di aprirsi a interventi in materia di commercio estero allora proprio per quello che ricordava prima l'assessore per la nostra posizione baricentrica per la via della seta per l'euroregione alpina evidentemente la capacità di poter come regione sottoscrivere accordi internazionali non meri protocolli ma accordi internazionali con gli stati a noi confinanti con gli stati lontani con l'unione europea diventa un sistema che valorizza la nostra specialità e come dire abbatte anche quei rischi di competitività negativa che ci sono alle volte tra i confinanti proprio sulla competitività negativa alcuni giorni fa proprio Alfonso Di Leva il collega ha scritto una notizia importante sul Friuli.it ovvero che l'unione europea sta diciamo così un po' storcendo il naso sullo sconto che facciamo sulla benzina sconto sulla benzina che se come avevamo visto anche alcuni mesi fa su un'altra puntata di Friuli.it proprio con Zilli e Di Leva protagonisti ha un impatto importante sulla diciamo così capacità di portare gli automobilisti del Friuli Venezia Giulia nelle autopompe nelle stazioni di carburante in regione piuttosto che vederli andare al di là diciamo così del confine in Slovenia o in Austria per chi vive lì vicino e pagare molto meno tra l'altro se non ci fosse più questo sconto ci sarebbe una riduzione quindi anche della possibilità della regione di compartecipare ai tributi erariali sulle accise di benzina e gasolio quanto è preoccupata di questo Zilli e se ci può fornire delle rassicurazioni o meno sulla possibilità poi di vincere questa partita che chiaramente è molto importante perché avrebbe due tipologie di danni oltre a colpire anche il settore delle stazioni di carburante con la ricaduta sull'occupazione e via discorrendo si sono molto preoccupata devo dire perché lo dico senza timore insomma non sono una pessimista di natura anzi se no non mi occuperei di tutto ciò di cui mi occupo però su questo tema sono molto preoccupata perché va chiarito come nel sistema complessivo un esempio come quello della regione Friuli-Venezia-Giulia che è rimasto nel cassetto per tanto tempo e oggi viene tirato fuori per la valutazione di merito rischia di sconquassare il sistema quindi noi stiamo facendo tutti gli approfondimenti del caso e abbiamo anche in programma assieme all'assessore Scocci Marro una riunione con il governo perché sarà il governo a dover poi proporre le argomentazioni in Europa a difesa di questa nostra iniziativa stiamo facendo tutti gli approfondimenti cercheremo di spiegare come in realtà non si tratti di una violazione della concorrenza ma di un aiuto alla pompa quindi di tutto ciò di cui abbiamo parlato tanto ma che era stato costruito per sorreggere un sistema che diversamente sarebbe comunque andato al collasso perché questa è la verità e ce la metteremo tutta per dimostrare le buone ragioni della nostra regione quando lo potremo sapere se ce l'avremo fatta oppure no eh guardi nei prossimi mesi credo che in primavera si potrà sapere qualche cosa ecco ma che impatto invece avrà assessore Zilli la flat tax sulle casse della regione ecco la flat tax è una di quelle iniziative fiscali che sono ben viste da una ottima da una grande platea dei nostri contribuenti delle partite IVA e penso ai commercianti agli artigiani penso a coloro i quali hanno la necessità di semplificare quello che è il monte degli adempimenti fiscali e anche di semplificare quindi le varie tassazioni che ci vengono richieste è una misura che per quanto riguarda l'annualità in corso non avrà delle conseguenze negative per i bilanci delle regioni degli effetti sono previsti a partire dal 2020 in particolare parliamo di effetti sui 2 milioni di euro dai 2 ai 3 milioni di euro come minor gettito derivante dalle addizionali regionali e comunali dell'IRPEF ma ricordiamo che la flat tax è prima di tutto un modello facoltativo ma io auspico che molti potranno come vuole il governo accedere a questo metodo e sono fiduciosa nel dire che ci sarà un effetto volano per l'economia farà emergere il sommerso che qui non è una preoccupazione grande per noi ma dovrebbe semplificare le relazioni tra i soggetti commerciali e dovrebbe quindi favorire un po' l'impegno da parte dei nostri artigiani dei nostri commercianti ad essere meno nell'ufficio del commercialista e più a servizio dei loro dipendenti e delle attività come pensate di recuperare queste mancate entrate dalla flat tax con una maggior compartecipazione sul gettito IVA nazionale per esempio quando andiamo a parlare di ridefinire anche noi vorremmo i nove decimi dell'IVA convinti che prima o poi questa economia stagnante riprenderà e quindi riprenderanno i consumi e lo Stato dovrà in forza proprio della sentenza che citavamo prima anche tenere in considerazione il minor gettito che le regioni incamerano per effetto delle manovre nazionali quindi con una manovra con una trattativa con lo Stato che non abbia poi ripercussioni sui cittadini questo è quello è l'impegno che mi sono assunto ma Spitaleri secondo lei è fattibile è un elemento qualificante per la specialità e l'autonomia a prescindere dal tema flex tax è evidente che quando il governo nazionale interviene in tema di ridisegno di imposte che hanno delle ricadute regionali evidentemente dobbiamo chiedere e fare anche una legittima battaglia perché ci sia un'invarianza rispetto alle esigenze territoriali o meglio il governo nazionale poi agisca per compensare con sistemi compensativi rispetto a questo minorgetto Sì sì il processo è il principio di invarianza visto dal punto di vista della regione visto dall'altra parte certo ci dobbiamo fermare adesso per una brevissima interruzione pubblicitaria rimanete con noi perché stiamo entrando nel cuore del discorso Mi sembra di poter sintetizzare il nostro dibattito le nostre analisi fino a questo punto in questa maniera il primo più importante concetto da salvaguardare è quello della autonomia e della specialità della regione con un particolare l'autonomia la specialità non può essere un dato solo politico ma deve essere anche un dato economico se la regione non è in grado di fare il proprio bilancio perché subisce tagli troppo forti l'autonomia va a farsi benedire i tempi per salvaguardare questa autonomia economica sono però stretti perché entro il 31 di marzo bisogna trovare un accordo con il governo ma la vera scadenza è quella del 28 febbraio perché entro il 28 febbraio la regione ha la possibilità o meno di impugnare la legge finanziaria che impone questa contribuzione di 836 milioni dalle casse della regione alle casse dello Stato a che punto siamo cosa possiamo fare siamo a buon punto nel senso che la trattativa è serrata e nonostante le difficoltà che il governo rileva in ordine all'applicazione delle misure che ha introdotto nella sua finanziaria nazionale quindi penso al reddito di cittadinanza che ovviamente richiede molte risorse che sono di parte corrente cioè necessarie subito la trattativa è serrata e vede il presidente Fedriga io al suo fianco continuamente nei rapporti stretti con il ministero e con Palazzo Chigi siamo fiduciosi che possa portare agli obiettivi che questa amministrazione regionale punta e speriamo che insomma non sia necessario dover fare un ricorso ma l'ha detto il presidente Fedriga in modo molto chiaro in occasione della conferenza stampa di fine anno che lui è il presidente con la sua giunta di questa regione quindi prima risponde ai cittadini di questa regione poi alle logiche legate all'appartenenza al nostro movimento politico però nello specifico quindi vogliamo tutelare i cittadini di questa regione ma nello specifico ci dice quali sono questi obiettivi pensate di manovrare sull'IVA su altre compartecipazioni quali sono gli obiettivi concreti sui quali vi state muovendo per evitare ripercussioni sui cittadini e le imprese senza andare eccessivamente nel dettaglio perché come comprende la trattativa è comunque molto delicata con il governo in questa fase perché arriviamo alle puntate finali ci sono due ordini di interventi uno è l'intervento in termini di contribuzione della regione Friuli Venezia Giulia alle casse dello Stato quindi aumentare lo sconto aumentare lo sconto ma non in forma temporale non le faccio numeri perché rischierei poi di essere imprecisa ma tipo magari un tetto annuo potrebbe essere allora noi siamo motivati da un'iniziativa diversa rispetto a quella che fu adottata dalla precedente amministrazione regionale noi non vorremmo uno sconto ma vorremmo una misura stabile definita in forma definitiva la regione Friuli Venezia Giulia contribuisce al risanamento della finanza pubblica in questi termini tot all'anno questo per noi significa avere una certezza delle entrate e delle uscite e quindi una programmazione per quanto attiene le iniziative che dobbiamo fare all'interno della nostra regione senza colpi di mano in più c'è una previsione che è inserita in tutti gli accordi che lo Stato ha concluso con le altre regioni a statuto speciale in cui si prevede la possibilità comunque per lo Stato di fare un prelievo unilateriale del 10% più 10% qualora lo richiedano ragioni eccezionali o per mettersi in linea con le esigenze dell'Europa ecco noi in questo senso vogliamo una precisazione che è importantissima e che politicamente ha un rilievo fondamentale dobbiamo tenere in considerazione quella percentuale di cui parlavo all'inizio ovvero sia che la nostra regione tra le regioni speciali è la meno speciale quindi noi vogliamo che quel prelievo che lo Stato si trattiene la possibilità di eseguire sia contemperato da questa situazione cioè dal fatto che la regione non può essere chiamata a dare di più rispetto a quanto danno le altre regioni speciali quindi nessun colpo di mano certezza nella contribuzione e tetto massimo della distribuzione è una strada giusta è una strada molto ragionevole è una strada sicuramente ragionevole nel senso che la regione ha necessità appunto di un elemento di certezza rispetto alle impostazioni di bilancio e rispetto quindi a quello che lo Stato può chiedere e di stabilità c'è un elemento che evidentemente va potenziato in qualche modo attraverso anche l'utilizzo un utilizzo più efficace proprio delle funzioni della commissione paritetica perché a quel punto può diventare effettivamente alle volte una camera di compensazione di discussione perché nel dipanarsi dei rapporti continuativi può essere quella che gioca proprio per la sua composizione paritetica tre componenti siamo stati nominati dal Consiglio regionale tre vengono nominati dallo Stato e questo può essere un elemento di equilibrio per raggiungere un equilibrio di bilancio che consenta alla nostra regione la possibilità di programmare con un tema importante che è quello di verificare rispetto anche a nuove funzioni che non hanno dei costi importanti ma che possono agevolare l'azione dell'amministrazione regionale e della regione e quindi andare ad alzare quella soglia di specialità di cui parlava l'assessore Zilli prima quindi portando la nostra regione facendo crescere la specialità della nostra regione soprattutto su funzioni che hanno possibilità di governo senza avere una ricaduta come può essere per la sanità che evidentemente porta delle importanti poste di bilancio ecco ma sul tema dei contributi che lo Stato verrebbe che la regione desse Alfonso aveva parlato inizialmente di 2,4 miliardi quindi circa 800 milioni di euro all'anno quale sarebbe e qui mi rifaccio a quello che aveva detto prima la Zilli un obiettivo secondo lei che se si centrasse bisognerebbe stappare una bottiglia di spumante Zilli stai parlando con me? eh ripeto che non il numero in sé sul quale stiamo trattando non posso in questo momento svelarlo perché andrei a così a vanificare e perdonatemi il lavoro che stiamo facendo in forma molto serrata con il presidente compete a lui dare questi dati e ci anticipa almeno i tempi ai quali puntate ma certo ovviamente la data del 28 febbraio è la deadline perché è evidente che noi non possiamo pensare di non chiudere un accordo da qui a un mese perché deve esserci la possibilità per noi eventualmente nella non sperata ipotesi che l'accordo non si chiuda di avere una possibilità di fare ricorso per la nostra regione ma in questo momento il terreno è fertile stiamo lavorando bene e quindi credo che ribadendo quanto ho detto prima cioè che puntiamo a una misura che sia definita vorremmo ovviamente defalcare quel numero ma non vi dico qual è ecco ma secondo lei Spitaleria quanto dovrebbe ammontare questo numero beh cioè se non si sbilancia l'azienda no non lo so io non voglio sbilanciare ma è evidente che se oggi avevamo quei 120 milioni in meno che ad oggi hanno consentito con il grande impegno di tutti di tenere in equilibrio il bilancio evidentemente qualsiasi cifra come dire di risparmio ulteriore rispetto ai 120 è un risultato apprezzabile possiamo aggiungere una cosa poi faccio il tifo faccio il tifo in questo senso per la nostra regione Tondo Tremonti che era il primo impatto il primo accordo prevedette 370 milioni di gettito che Regione Flori-Venezia-Giulia doveva lo Stato per fare che cosa si badi per attuare il federalismo fiscale poi da lì ci fu la rinegoziazione la revisione degli accordi l'impegno della precedente giunta regionale e l'impegno che stiamo oggi adoperando noi su questa partita ma il federalismo fiscale non è mai stato effettivamente realizzato quindi c'è una valutazione politica coraggiosa che va fatta ma davanti a una situazione per cui quanto di meno quanto di più andrebbe anche valutato questo aspetto per cui il federalismo fiscale non esiste non ha portato dei vantaggi alle regioni però le regioni sono chiamate a contribuire in questa forma così importante senza una distinzione tra chi è virtuoso e chi non lo è sarebbe la metà più o meno adesso sto parafrasando non so se mi sto sbagliando però l'ho detto io però invece a me del ragionamento della Zilli colpiva il tentativo di questa giunta di arrivare ad un accordo complessivo e duraturo con quale obiettivo perché un accordo complessivo e duraturo qual è l'idea che avete in testa qual è il progetto che volete perseguire dopo aver portato a casa un risultato così se ci riuscite dopo aver portato a casa un risultato così importante è la certezza delle entrate del rapporto entrate e spese rispetto allo Stato il fatto quindi che la nostra regione sa quanto deve accantonare per lo Stato e per tutto il resto per le restanti questioni si pone su un tavolo di trattativa paritaria questo è ma oltre al numero in sé c'è anche tutta una partita che riguarda il fatto che le manovre fiscali devono essere adottate con l'accordo della regione quindi senza proprio quei colpi di mano di prima e proprio per questo è fondamentale rivedere e potenziare il ruolo della commissione paritetica per noi noi siamo convinti che le persone che sono state indicate dal governo ed elette in consiglio regionale avranno una missione molto importante che è quella di rendere operativa questa cabina di regia questo collegamento tra la regione e lo Stato e daremo grandi compiti direttive ai componenti della commissione perché vogliamo attraverso di essa davvero esercitare la nostra autonomia che prima di tutto deve essere fiscale e tributaria per poter esercitare le altre forme di autonomia commissione paritetica fra leale collaborazione prevista dalla Costituzione e il rischio di colpi di mano posizione scomoda posizione scomoda ma posizione essenziale se quello che ha detto la Corte in termini appunto di pari dignità sotto il profilo del perseguimento dell'interesse pubblico alla regione e allo Stato centrale perché storicamente non era così cioè lo Stato prevaricava sulle regioni di fatto le esigenze anche di bilancio degli ultimi dieci anni ormai perché poi gli anni si assommano velocemente hanno fatto sì che lo Stato ha esercitato la sua autorità anche con prelievi forzosi ora è evidente che anche come dire in un nuovo scenario proprio di regionalismo differenziato proprio di nuova attivazione di un principio anche di federalismo all'interno all'interno del nostro paese evidentemente le regioni soprattutto quelle ad autonomia speciale possono e devono sedersi al tavolo in condizioni di parità ma perché i conti sono in ordine da noi perché ci sono funzioni per le quali la nostra regione risponde ai cittadini alle famiglie al sistema economico di questa regione non si tratta evidentemente di giocare a chi è più bravo chi non è una garetta si tratta di avere strumenti per rispondere alle esigenze dei cittadini la nostra regione ha un'autonomia e una specialità per cui su alcune funzioni risponde direttamente lei deve essere messa in grado nell'ambito della comunità statale di rispondere a queste esigenze teniamoci Alfonso il bello per il finale per l'ultimo blocco lanciamo l'ultimo spazio pubblicitario e poi vediamo il finale di Frull Economy spazio pubblicitario spazio pubblicitario ecco Spitaleri una domanda secca la regione Friuli-Venezia-Giulia con lo Stato italiano fa credito o debito fiscale la risposta è complessa perché le funzioni che lo Stato e la Regione svolgono non sono così strettamente indipendenti e quantificabili per cui si può dire tutto questo incombe alla Regione tutto questo incombe allo Stato c'è un elemento importante anche rispetto alla dinamica del patto rispetto alla dinamica delle risorse la Regione deve sempre meglio attrezzarsi a dettagliare quali sono i costi che deve sopportare la Regione per l'erogazione dei servizi e per lo svolgimento delle funzioni perché proprio ritornando all'inizio della nostra discussione proprio questo consente quella leale cooperazione perché se lo Stato intacca quel quantum di risorse allora attacca la specialità allora la Regione fa il proprio lavoro mettendo in dettaglio quello che spende sanità sistema enti locali guardate il sistema enti locali che la nostra Regione sostiene integralmente rispetto a enti locali del Veneto o delle altre regioni ha una condizione assolutamente favorevole la nostra realtà hanno patito i comuni e gli enti il sistema degli enti locali delle regioni ordinari in questi anni tagli drastici che una capacità e l'autonomia l'esercizio dell'autonomia regionale invece nella nostra regione ha preservato consentendo al sistema degli enti locali di avere risorse per rispondere ai cittadini ma è questo che ha spinto Sappada a venire e questo che ha spinto Sappada anche a chiedere oltre a un fatto culturale un fatto storico naturalmente per Sappada le questioni non erano veramente economiche ma sicuramente c'è questa attenzione il secondo elemento quindi cosa spendiamo secondo elemento cosa invece vogliamo investire come vogliamo investire questa è l'altra è la posta che accanto al tema delle spese fa sì che quel rapporto dare avere sia un rapporto dove noi disegniamo esattamente qual è il nostro fabbisogno ecco ma infatti proprio due mesi fa avevamo incontrato la Zilli su questo aspetto proprio c'era anche Alfonso e le avevamo domandato come mai a nostro dire solo una quota diciamo così che possiamo considerare marginale fosse stata investita per le imprese Zilli in realtà abbiamo fatto un piano di investimenti che vale sul triennio 319 milioni di euro ed è un piano di investimenti che riguarda tutti i settori della regione dall'economia alla salute alla protezione civile alle infrastrutture in questo senso è vero che l'assessorato e le attività produttive ha indicato una somma in ordine alla quale potrebbe esserci un rilievo di scarsità ma in realtà gli aspetti sono due uno che è una buona fetta di quegli investimenti rientra nel sistema delle intese cioè di una cabina di regia tra diversi assessori tra i quali anche l'assessorato le attività produttive con l'assessorato alle autonomie locali quindi per cercare di dare un coordinamento unico alle attività e alle iniziative che vogliamo dare e poi c'è un altro aspetto c'è la rigidità e quindi la lentezza con la quale molto spesso c'è una risposta da parte del sistema rispetto alle iniziative che andiamo a proporre questa è una situazione che abbiamo trovato soprattutto quando si tratta di fare investimenti perché c'è un timore rispetto a ricorrere a questo strumento ma questi investimenti in questo momento sono estremamente urgenti perché l'economia se non è in recessione sicuramente è in rallentamento la domanda estera come dire è in contrazione i privati non investono per poter sostenere l'economia del territorio è assolutamente indispensabile che gli investimenti arrivino dalla parte pubblica cosa farete? Ed è per questo che abbiamo destinato 319 milioni sul triennio per gli investimenti perché vogliamo fare una manovra che sia anticiclica che sia contro questa recessione che stiamo vivendo e quindi dare l'esempio fare da traino per le nostre aziende le nostre imprese che potranno con gli investimenti che andremo a mettere in campo realizzare cantieri far girare l'economia e quindi creare nuova ricchezza per i nostri cittadini siamo convinti di questo i conti della regione ce l'hanno permesso e quindi abbiamo adottato una scelta coraggiosa che rispetto allo stock di debito che la nostra regione ha storicamente segnato negli anni ha assunto un picco importante noi ci crediamo abbiamo fiducia in questo e siamo certi che nonostante le rigidità iniziali ci sarà un'ottima risposta da parte dei cittadini io tornerei io tornerei alle questioni di questi giorni sono giornate veramente cruciali fondamentali per definire l'accordo con lo Stato ad un tavolo di trattativa ci si siede non solo per chiedere delle cose ma anche pronti a cedere qualcosa le faccio una domanda che non vuole essere né cattiva né provocatoria fra le cose che siete pronti a cedere c'è anche la rinuncia ai due ricorsi alla Corte Costituzionale presentati dalle giunte precedenti per le leggi finanziarie del 2016 e del 2017 sì perché hanno comunque un effetto neutro rispetto alla nostra la nostra autonomia quindi questo sul tavolo di trattativa i ricorsi pendenti dovessimo decidere di chiudere un accordo ovviamente le liti precedenti vanno messe nel cassetto e gli effetti non ci sono assolutamente effetti negativi per la nostra regione dalla rinuncia a quei ricorsi ormai è lettera morta quindi possiamo tranquillamente pensare di chiudere un accordo rinunciando a questi ricorsi senza avere effetti negativi è d'accordo ospitaleri beh questa è una valutazione più politica che tecnica evidentemente sì l'abbiamo vista un po' mordersi le labbra no l'importante evidentemente quei ricorsi nascevano sulle finanziarie e quindi come dire su quegli esercizi finanziari il 2016 e il 2017 esatto è evidente che in una logica deve esserci una logica compensativa ecco la negozia anche è possibile la negoziazione sui ricorsi la si fa la si può fare la si fa abitualmente è evidente che questo deve portarci un più di risorse e un più di possibilità di investimento vedevo i nostri telespedatori hanno visto le immagini su infrastrutture mentre parlavamo è evidente che noi a proposito di leva sul tema delle infrastrutture abbiamo ancora una possibilità importante non solo penso al sistema portuale ma anche al tutto il collegamento tra questo sistema portuale e il sistema della manifattura dove evidentemente avere risorse da parte della regione per poterli immediatamente o comunque con una progettualità di medio periodo poterli investire fa crescere l'intero sistema l'intera nostra capacità di autonomia e la nostra capacità di fare reddito per noi quindi siete pronti a ripartire da zero perché la sentenza della Corte Costituzionale sulla Sardegna ha costretto già lo Stato a fare alcune delle cose che è andata a chiedere no siamo pronti a continuare questa trattativa su un terreno ancora più fertile alla luce di questa sentenza perché ci dà molte armi in più da poter utilizzare e quindi i prossimi tempi le prossime settimane sono davvero decisive però la domanda di Alfonso Assessore Zilia era certamente bisogna cedere su che cosa voi invece vorreste portare a casa il risultato beh maggiori competenze in termini sia di una istituzione di un tavolo per ottenere i novi decimi sull'IVA come vi dicevo poi c'è il tema quello è l'obiettivo primario è uno degli obiettivi primari poi c'è appunto la potestà impositiva piena sui tributi locali ed anche abbiamo la volontà di incidere in modo positivo sul sistema scolastico e quindi chiediamo che almeno l'ufficio scolastico regionale possa diventare di competenza regionale passi a noi e questi sono elementi cruciali per poter esercitare al meglio la nostra autonomia e da qui partiamo nella considerazione che conoscendo le difficoltà dello Stato la trattativa non è facilissima ma abbiamo da parte nostra molti elementi a sostegno della nostra autonomia virtuosa e di tutti i sacrifici che abbiamo fatto negli anni ma solo se li prenderete tutti e tre questi obiettivi mollerete i ricorsi le impugnazioni oppure anche solo per uno di essi in meno comunque diciamo così mollerete le impugnazioni no il discorso è un altro è contemperare queste richieste di competenza per la regione con quella che sarà l'importo il tetto che lo Stato chiede alla regione Friuli-Venezia-Giulia che ovviamente deve essere diverso rispetto a quello che è stato previsto nella legge finanziaria e quindi all'ammontare delle risorse che la regione deve alle casse dello Stato quindi una contemporazione di questi due elementi porterà spero all'auspicato accordo per il quale stiamo tanto lavorando da mesi direi che anche come tempi siamo perfetti mi sento di ringraziare gli ospiti Spitaleri Salvatore della componente della commissione paritetica Stato-Regione e ovviamente grazie per l'attenzione prego e ovviamente l'assessore regionale finanze e patrimonio Barbara Zilli per tutte le domande che io Alfonso le abbiamo fatto e per avere risposte se non è qua e ovviamente un grazie sincero ad Alfonso per essere stato ispiratore di questa puntata e anche diciamo così promotore di molte domande e molti contenuti un grazie ad Alfonso ci vediamo fra una settimana per parlare anche delle tigri delle imprese delle nostre regione quelle che stanno crescendo a doppia cifra da diversi anni per redditività e per fatturato e magari anche con alcune sorprese all'interno di tale puntata a tutti voi una buona serata rimanete con noi qui a Telefriuli questo programma è stato offerto da Intesa San Paolo